Circa un mese al prossimo appuntamento ufficiale ovvero le gare di playoff di qualificazione ai mondiali del 2023 il prossimo appuntamento però innanzitutto è questo prestigioso torneo in Portogallo, c'è Capo Verde, c'è soprattutto la Spagna sono tre partite che alzano notevolmente il livello qualitativo intanto dell'avvicinamento perché si alza anche il livello qualitativo poi della partita che ci aspetta Mi fa piacere che iniziamo con questo argomento perché proprio nella prima riunione che abbiamo avuto in questo stage ho sottolineato le ragazze quanto ci avesse fatto piacere e ci abbia completato la nostra attività con tanta gioia l'ultima partita e l'ultimo confronto con la Bulgaria ma soprattutto perché grazie a questo abbiamo incominciato ad avere questi inviti perché prima non avevamo avuto inviti da Spagna, Portogallo e queste squadre con cui ci onoriamo di giocare ma perché vogliamo crescere se continuiamo a giocare con squadre più basso livello del nostro è impossibile la crescita Spagna e Portogallo sono due realtà importanti oltre a Capoverde che conosco di meno ma sono proprio il simbolo che questa nazionale sta cercando di crescere Un'Italia che va in continuità con quella che avevamo visto per larghi tratti rispetto alle partite con la Bulgaria però con qualche novità che risponde alle indicazioni arrivate anche dal campionato Sicuramente, comunque una squadra nazionale più o meno deve avere almeno 24-25 giocatrici nell'orbita di quelle che possono entrare in campo e questa è stata un'occasione per allargare un po' questo giro di giocatrici soprattutto, come dicevi tu, per la presenza di due giovanissime che però si stanno facendo onore in campionato e poi rientro di Irene Stefanelli che seppur molto giovane era già in nazionale ma ha avuto questo infortunio pesante che l'ha bloccata Slovenia La Slovenia, basti dire che ha pareggiato con la Norvegia negli ultimi europei Ecco, questo è un sogno per noi giocare con la Slovenia e speriamo di riuscire a interpretarlo bene perché dobbiamo non viverlo da addormentati ma live cercando di contrapporci, di capire come fare per poter essere antagonisti loro non sarà facile ma credo che questa sia un'aspirazione che queste ragazze meritano di vivere Abbiamo parlato di giovanissime legate a questa nazionale, ancora più giovani, ancora presto per questa nazionale quelle che sono intanto state selezionate nell'ambito dei campionati mediterranei Sicuramente avrai seguito, hai dato un occhio da direttore tecnico delle nazionali femminili a partire da questo risultato così importante intanto contro il Montenegro Io le ho viste già due volte quando abbiamo avuto gli impegni in Italia ed è un gruppo che al di là dei risultati che sono venuti anche adesso mi hanno impressionato perché abbiamo un livello di fisicità importante e se pensiamo che hanno pochissima esperienza di gioco perché sono la generazione che ha sofferto un pochettino la fermata per la pandemia credo che siamo su una strada molto buona è chiaro che scontiamo una differenza con altre nazionali che sono molto molto più avanti di noi nel lavoro sia con le senior che con le giovani ma vincere col Montenegro, battere il Kosovo, essere competitive questo è un segnale molto importante con il nostro movimento ma ritengo che veramente il movimento femminile purtroppo nei numeri limitati che abbiamo sia di buon livello soprattutto dal punto di vista fisico grazie a tutti grazie a tutti